Perchè prima era una scuola, infatti ce l'ha dell'edificio religioso vagamente più che della discoteca. Questa scuola non era più scuola, ma bensì era praticamente uno o due imprenditori. Sembra il classico posto dove vai a fare il ritiro per la comunione o fa la cresima, questo. Foto copertina qua, sbrigati. Arrivo e mica scappa. Vedo già dei disegni da qua. Ciao, ora che entriamo alzo da sopra lo sguardo. Perchè pure era famoso. Perchè me l'hai detto una discoteca? Perchè non l'avrei mai detto questa discoteca? Ma non lo diciamo a Diana? Ce la potete fare? Eh? Levatevi? Sì, sì. Vedo che ci hanno messo qualche staffa per metterla in sicurezza sulle scale. Ehm, hai fatto la foto da qua? Orizzontale da qui? No, da qui non viene perchè c'ho il sole in faccia. Questo era il nome quindi? Sì. E questo era il menù? Vipzone cocktail analcolici. Che te ne pare? Madonna sante Dio! Sono stati un po' stronzetti veramente perchè ora vediamo che cosa dice. Comunque sei bella come Roma. Eh? Sono originali la discoteca. Sì. Bruciati. Ma queste che erano tipo privè? Sì, secondo me sì. Sì. Eh. Però se è proprio d'antico si vede che c'è una storia completamente diversa dalla discoteca. Sì. E poi vedi che questa mega cosa di Azzaroma secondo me è stata fatta... questa era l'aula magna forse o l'ingresso comunque della scuola. Penso se un giorno qualcuno tocchere il compito di levare il telo che viene giù. Pazzo. Hanno tirato un pezzo di metallo... Sì. Hanno messo là. Quella è pericolosa. Esatto. Dentro il telo. C'è un'altra zona bar, probabilmente. Sì. Perché poi... Qua vi spoilerate quello che ci sta chiedendo. Però poi... Si vede... Si intravede. Si intravede. Si intravede. Guarda, no? Che bestia. Wow. Eh... Dio, ma ci voglio buttare pure se c'è il putritume, guarda. Vuole che ci fai solo la piscina. Vieni come... Come posto per andare in piscina. Col baretto. Infatti. C'è il devasto totale dei vetri. Guarda, io lo giuro. Questo non si è riuscito mai a capire. Si dice cosa fosse. Non so se l'avevano messo. Per metterlo in sicurezza. Non faccio andare verso uno perché fosse di dare la piscina. Ah, ah. Per non farle andare nella piscina. Però no. Perché questo è il ferro che si usa. Abbiamo andato a prendere l'armatura. Si. C'è il mento armato. Si. Queste cose qua legate. Non è che stavano per chiudere sta parete? Non si sa. No, chiuderla no. Non è mettere la in sicurezza dopo l'abbandono. Per il 2024. Eh no. Eh no. Il 2024. Questo è stato fatto no. Da poco. E con tutti i cavi e le cose. Si. C'è rimasto qualche cavo. Questa è proprio alla console. Mimmo Marelli. Mimmo Marelli. Mimmo Marelli un po' della Lego però. Eh questo è in economia. In economia proprio. In economia proprio. Si. Così giusto per far vedere. Eh si. Sotto è vuoto poi eh. Sotto è vuoto eh. Sì. Sì. Non è... Cioè questo è rialzato ma sotto è vuoto. Sì. Questa era l'altra stanza per i venti insomma. Qua c'è uno striscione. Tutte cose attaccate forse. Decorazioni. Questa è stata staccata. Non propriamente questa di musica. Ha pure quella. Quella cosa c'è? Quindi ce n'era due fuori e questa interna. Una, due e tre. Ah. Questa è proprio questa. Ah ah. Forse sì. Qui. Super foto. Per Diana. Vai vai. Queste sono le cose che ti piacciono. Eh sì. Questa sì. Decisamente. Qua è molta copia incolla. Quindi. Ciao bene. Sì. L'ingresso 5 euro. Il poster di Radio DJ. Chissate che anno è però. Il fatto che non ci siano contatti social mi fa pensare che sia prima del 2010. Dove troviamo il poster di Radio DJ c'è questa scritta qua. Quindi. Assurdo questo poster veramente. Ma da qua la vista della piscina. Fantastica. Tutti questi calcinacci da dove l'hanno tirati fuori? Questo è bello mi piace. Il 24. Ma la vista da qua? Sì. Il 24. No. Guardate che vista. Ma è stato 24 sbaffato può essere. Guardate qua. Il posto che avevano per ballare fuori. Sono le rane che fanno questo casino. No. Ma hai sentito? Sì sì. Avviciniamoci dai. Voglio vedere queste rane. Sì sì. Eccola eccole vedi. Eccola lì la rana. Ma quella è rana nera nera. Sì sì. facciamo le pizze forse sì ma ci abbiamo visto per strada proprio bello bello guarda ci sarei venuta molto volentieri perché mi sa proprio di intima discoteca capito una mega discoteca esatto salutiamolo mino ciao mino grazie averci fatto prendere in fisema dalla discoteca abbandonata vi diamo appuntamento alla prossima settimana ricordandovi sempre prendete prendete no lasciate solo in fronte prendete solo immagini è colpa di riccardo alla prossima amici ciao 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 Audio Jungle